ok ciao a tutti ragazzi e oggi finalmente dopo secoli dopo secoli eccola vi faccio gli ammazzini ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo eccolo e adesso andiamo più avanti eccolo il nostro è un mag zain ovviamente il link del suo canale lo lascerò in descrizione dovete iscrivervi se non vi iscrivete noi non potremmo aggiungere 400 mila iscritti guardate gli manca pochissimo quindi iscrivetevi noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi